A me tocca svolgere una breve relazione, così come da tradizione, sulla attività che la Fondazione ha svolto nel suo quattordicesimo anno di vita. Entriamo ora nel quindicesimo anno di vita e questo è una cosa che ci dice che questa Fondazione inizia ad avere una tradizione. Io ogni anno cerco una parola d'ordine, una parola chiave intorno alla quale organizzare l'esposizione del lavoro svolto. Ecco, se devo indicarne una per quest'anno, indicherei e che in qualche modo è una parola che mette in relazione e in rapporto l'origine della Fondazione con il lavoro che abbiamo svolto nell'anno che si è appena concluso, indicherei la parola Torre d'Avorio. Noi abbiamo iniziato 15 anni fa a dar vita ad una fondazione che aveva una precisa connotazione politico-culturale. Era una fondazione di pensiero liberale conservatore. Non era un dato scontato. In quel momento non ce n'erano. Le fondazioni avevano piuttosto un abito bipartisan o comunque si tenevano lontane dalla politica. Noi abbiamo ritenuto di far questo perché pensavamo innanzitutto che bisogna prendersi le responsabilità del proprio pensiero e a volte bisogna essere anche in grado di sdoganare un pensiero, diciamo, ritenuto eretico marginale nel proprio Paese. Ma soprattutto noi pensavamo che questo servisse molto alla lotta politica perché ci accorgevamo che finiva un personale politico il quale a lungo riusciva a racchiudere dentro di sé molti elementi, cioè quelli di pensare la politica, quella di praticarla e di esporla nei mass media. Questo evidentemente era dovuto al fatto che i tempi della politica erano molto lenti, che l'esposizione mass mediologica si limitava ai giornali e a qualche tribuna politica. E dunque tutto questo era possibile. La modernizzazione, che in Italia è arrivata in ritardo, alcuni fenomeni che sono stati qui percepiti soltanto nella seconda metà degli anni 90, in realtà si erano già sviluppati negli altri Paesi nel decennio precedente, insomma faceva comprendere che quei ruoli dovevano in qualche modo anche autonomizzarsi e che c'era bisogno dei centri che non fossero degli uffici studi di partito, che avessero una loro autonomia, ma che potessero fornire pensiero politico che poi avrebbe dovuto trovare la forza per imporsi e per conquistare personalità e partiti. Così è nata Magna Carta, così abbiamo contribuito ad una tappa della modernizzazione della vita politica italiana. Abbiamo rinunziato e rifiutato l'idea che una fondazione culturale dovesse essere chiusa in una torre d'avorio. In passato abbiamo anche all'interno di questa fondazione, non su pochi temi, sviluppato del pensiero che poi ha influenzato la vita politica. In particolare uno di questi temi di riflessione è stato quello intorno alla riforma dello Stato e delle nostre istituzioni. Quest'anno dunque la fondazione è stata chiamata in causa innanzitutto su questo tema. Il referendum costituzionale l'ha sollecitata e io credo che sia stata una scelta giusta quella di non avere un profilo terzo, ma di aver preso posizione e aver anche contribuito ad alcuni momenti di analisi sulla proposta che era sottoposta ai cittadini, evidenziandone tutti i limiti, i limiti intrinseci ad una gestione di quel fenomeno che invece era stata tutta politica e che quindi invece di riunire il Paese ha finito per dividerlo. Noi in quest'anno abbiamo svolto quattro seminari di studio su questo tema. Lo abbiamo fatto in una fase precedente alla campagna referendaria, quando c'era ancora la possibilità di intervenire sul testo e di modificarlo. Lo abbiamo fatto nel corso della campagna referendaria e lo abbiamo fatto dopo per analizzare quel risultato e il suo significato. Sono stati coinvolti in questo lavoro 28 colleghi professori di diritto costituzionale. E con molta evidenza questo è stato un lavoro che è anche costato alla Fondazione, perché il suo comitato scientifico in qualche modo ha trovato una ricatalogazione, una ridefinizione nel vivo di una battaglia aperta. A questo tema sono stati dedicati anche due incontri internazionali. Uno con la Fondazione FAES, che è la fondazione del Partito Popolare Spagnolo, e un'altra con il Centre de Gaulle. La prima incontro è stato dedicato al tema della politica generale, e il secondo in particolare al tema della riforma delle autonomie locali, cercando appunto un parallelo tra la situazione italiana e la situazione francese. Io vorrei legare a questo sforzo e a questa iniziativa anche quanto la Fondazione ha fatto quest'anno sul fronte dell'informazione, perché quella campagna referendaria ha evidenziato un aspetto che in qualche modo ci ha preoccupato, sempre per non rimanere chiusi nella Torre d'Avorio, e cioè una informazione pubblica fortemente orientata. È la difficoltà di far passare i temi di un dibattito che potesse svilupparsi in direzioni diverse. Un ricercatore della Università Sapienza di Roma, che mi ha intervistato qualche giorno fa, perché sta conducendo una ricerca sulla campagna del referendum che si è concluso il 4 dicembre, mi faceva presente questi dati, cioè che il rapporto sull'informazione pubblica tra il fronte del sì e il fronte del no è stato di 1 a 100, cioè ogni 100 minuti di informazione del fronte del sì c'è stato un minuto del fronte del no. E per quel che riguarda la spesa addirittura il rapporto è salito a 1 a 400, il che anche da un punto di vista scientifico pone delle domande sui motivi intrinseci che poi hanno determinato invece un risultato differente. Questo è il motivo per il quale la Fondazione ha aiutato tutte le iniziative che tendevano a ricreare una situazione di pluralismo nel campo dell'informazione, anche della carta stampata, e soprattutto ha fortemente potenziato, io ringrazio qui in particolare l'onorevole Roccella, che ne è stata l'anima, ne è l'anima e in qualche modo è grazie al suo lavoro di coordinamento che l'Occidentale, cioè il giornale online della Fondazione, ha fatto un grande salto avanti, un grande salto di qualità, raggiungendo i 100.000 utenti unici al mese, che per un'iniziativa completamente autofinanziata è un risultato considerevole. Altre iniziative della Fondazione, abbiamo sviluppato il nostro progetto di scuola di formazione politica. Come voi sapete, come sanno quelli che ci seguono, la Fondazione si occupa soprattutto di ricerca, informazione e formazione. La scuola estiva di Magna Carta, che è stata considerata da terzi la migliore scuola estiva di politica, la migliore summer school di politica italiana, aveva fatto dieci edizioni. Quest'anno, grazie soprattutto al lavoro di coordinamento di Maria Elena Cavallaro, della professoressa Maria Elena Cavallaro, che coordina i nostri comitati scientifici, questa scuola è diventata un progetto trimestrale. Cioè, i ragazzi hanno lavorato non per una settimana, per dieci giorni, ma per tre mesi. In tutti i fine settimana, venerdì, sabato e domenica, si è formata una vera e propria faculty. E il tema che è stato sviluppato, su quattro differenti direttrici, è stato quello di individuare l'agenda dei problemi del XXI secolo, nella consapevolezza che questa agenda sta cambiando sotto i nostri occhi. Noi, e ne abbiamo un saggio anche stasera, ci confrontiamo con tematiche, i temi antropologici, l'immigrazione, il tema della ricostruzione, che soltanto qualche decennio fa non avrebbero trovato posto in nessuna agenda politica. Oggi sono al centro e anzi rappresentano in qualche modo i temi che determinano le fratture tra gli schieramenti differenti. Questa faculty ha quattro aree tematiche, per l'appunto l'area politica, l'area economica, quella internazionale e quella antropologica. E credo che i risultati siano stati così buoni, per cui da questa iniziativa deriveranno anche corsi molto più compatti e brevi, di specializzazione, su tematiche specifiche. E una di queste, per l'appunto, è animato, una di queste proposte è animata e pensata dal professor Chiaia, e non è uno degli ultimi motivi per cui debbo ringraziarlo. E' andata avanti anche quest'anno l'attività dell'osservatorio sulla crisi, che è stato dedicato alla comunicazione digitale e a tutti i suoi sviluppi, alcuni dei quali sono prepotentemente, come sapete, e pericolosamente entrati nell'attualità. E' andata avanti l'attività di pubblicazione della Fondazione. In particolare, la nostra rivista, Percorsi Costituzionali, ha visto l'uscita dei suoi due volumi annuali. La Fondazione ha consentito la pubblicazione di quel dialogo tra me e il professor Onida, presidente merito della Corte Costituzionale, che è stato un po' un libro, la colonna sonora, diciamo, della campagna referendaria. E da ultimo, credo che sia anche oggi presente, per chi lo voglia, è stato pubblicato questo volume collettaneo, la sfida all'Occidente, sul legame tra la crisi dei valori occidentali e il terrorismo islamico. Il sindaco Castelli ricordava le giornate di Norcia e in realtà questo volume raccoglie alcuni di quei contributi che emette insieme una riflessione che è partita dopo il 2001 ed è arrivata con una certa coerenza fino alla elezione di Donald Trump. In questo volume troverete scritti di Ratzinger, Ruini, Scola, ma anche di storici come Bernard Lewis e di attenti osservatori del fenomeno dell'immigrazione come Adriana Cerretelli oltre ovviamente gli scritti, diciamo, tra virgolette più interni ed è possibile ricostruire il filo rosso di una riflessione non scontata e che purtroppo anche nel corso dell'ultimo anno ha trovato molte conferme da una terribile attualità. Si è rafforzata la biblioteca, nel limite del possibile iniziamo ad avere problemi di spazio, però in alcuni ambiti abbiamo una biblioteca, soprattutto per quel che riguarda la storia dei sistemi politici comparata, che è sicuramente, diciamo, tra le migliori d'Italia e questo lo possiamo comprendere perché la nostra biblioteca è inserita nel catalogo unico di tutte le biblioteche delle fondazioni e soprattutto abbiamo riformato il sito web cercando di renderlo, diciamo, più fruibile e più moderno. Come al solito, in questa brevissima relazione, io non ometto mai un accenno ai dati economici perché, insomma, essendo la nostra un'attività completamente, ripeto, autofinanziata, i nostri contributi che noi prendiamo dagli imprenditori ai quali non diamo niente in cambio, ovviamente non gli facciamo l'analisi del DNA perché questo è normale, ovviamente se danno un contributo devono avere la disponibilità che la cosa sia pubblicata sul sito, questo a garanzia, evidentemente, di una massima trasparenza, ma d'altra parte vorrei insistere su questa cosa di cui sono particolarmente orgoglioso. Noi chiediamo dei contributi, ringraziamo chi ce li dà perché dobbiamo ringraziare chi ci consente di svolgere un'attività culturale e riteniamo che tutto questo non possa essere in qualche modo nascosto, anzi è qualcosa della quale bisogna andare fieri, perché l'attività di pensiero e l'attività culturale ha un suo costo e questo costo può essere sostenuto o attraverso un'attività di autofinanziamento dallo Stato, poiché abbiamo deciso di non ricorrere allo Stato, evidentemente c'è soltanto un'altra maniera e quindi anche su questo devo dire che ai moralisti d'accatto rispondiamo con una certa fierezza, non avendo assolutamente paura e timore di dire quali sono le fonti attraverso le quali noi ci autofinanziamo. Innanzitutto la nostra attività volontaria, quelli che lavorano a Magna Carta per lo più quasi tutti svolgono attività volontaria e questo lo sottolineo tre volte. Molto spesso in alcuni casi, oltre a svolgere attività volontaria, offrono anche un proprio contributo in denaro. Questo è il motivo per il quale la fondazione è partita con un forte debito e questo debito si è man mano assottigliato anche grazie a una oculata gestione del denaro. Io sono convinto e spero che nel prossimo anno, nella relazione del prossimo anno, potrò annunziare, visto che insomma in qualche modo siamo legati anche all'andamento della vita politica e quindi alle legislature, che la fondazione è arrivata al pareggio di bilancio, anzi ad avere un lieve attivo. Quest'anno le entrate sono state, i bilanci sono pubblicati sul sito, sono state di 412.350 euro, le uscite di 378.668 euro, con un attivo di 33.682 euro. Ecco, fin qui l'attività svolta. Tre minuti per dirvi quali sono le linee lungo le quali ci muoveremo invece nel quindicesimo anno della fondazione. Noi vorremmo rendere ancora più compatti i comitati scientifici, in modo che la presenza del comitato scientifico sia un impegno effettivo e non un dato, diciamo così, onorifico. In realtà questo è qualcosa che nei fatti è già avvenuto, dobbiamo portare quanto si è già verificato materialmente ad essere anche formalizzato. Siamo convinti che questo lavoro debba portare a una maggiore vitalità del sito, che deve essere un luogo di dibattito, in cui i dibattiti che si svolgono dentro la fondazione vengano portati all'esterno e che quindi possa raccogliere anche contributi, non soltanto evidentemente di chi vive la fondazione anche all'esterno, ma possa diventare in tutti i sensi un vero e proprio luogo di dibattito animato perennemente. Vogliamo rafforzare la scuola di formazione cercando di avvicinarla anche ad un dato di mercato. abbiamo fortemente avvicinato i ragazzi con delle borse di studio che hanno consentito di fruire di una scuola di formazione trimestrale ad un costo molto basso. Dovremmo man mano cercare, anche man mano che la scuola si afferma, di avvicinare il costo richiesto al costo reale per poter svolgere questa attività che speriamo possa essere sempre più bella. Io credo che un'altra iniziativa che ci deve vedere e impegnati è quella di trasformare le nostre pubblicazioni assieme all'Occidentale che ha assunto in questo senso un'iniziativa molto importante in una vera e propria attività editoriale. Oggi i libri non si vendono più in biblioteca, in libreria. I libri si vendono soprattutto attraverso altri canali e in particolare attraverso il web. Noi abbiamo un sito, abbiamo l'Occidentale, abbiamo poi delle reti che sono appunto quella della fondazione, quella del movimento e questo può consentire un'attività editoriale che non solo è in pareggio ma che può addirittura diventare una fonte di reddito se saremo in grado di offrire dei titoli importanti e interessanti come quelli che sono stati forniti. Infine, è soltanto perché forse è la cosa a cui più teniamo, vogliamo fortemente potenziare l'Occidentale. Vogliamo che questa iniziativa editoriale possa diventare, possa avere risultati di diffusione molto maggiori rispetto a quelli che sono stati raggiunti. Ecco, tutto questo è stato possibile grazie a quanti lavorano poi più o meno ogni giorno nella fondazione. Io vorrei ringraziare il vicepresidente della fondazione Paolo Vigevano e Luigi Cavallari, il Gianni Clemente, Valentina Scarpa, il presidente del comitato scientifico la professoressa Cavallaro e Sabrina Camerini. Sono loro in realtà il cuore di questa iniziativa e quelli che hanno consentito che potesse avvenire tutto quello che brevemente ho cercato di dirvi. Scusate questa parentesi, ma è una parentesi necessaria, rientra nei compiti, diciamo, tra virgolette anche statutari del presidente ed ora passiamo alla parte veramente interessante, centrale della serata che vede come protagonista il professor Chiaia, il Politecnico di Torino. Io dirò soltanto una cosa per presentarlo e chiudo. E cioè che quello che ci ha portato a scegliere questo tema e a scegliere il professor Chiaia è il fatto che c'è una consolidata convinzione che coglieremo dalle sue parole della necessità di tenere insieme il sapere tecnico e la scelta politica. Anche quello che ha detto il sindaco Castelli ci ha fatto capire che non è pensabile che la politica faccia almeno dell'elemento tecnico, ma non è nemmeno pensabile e Chiaia ne è assolutamente convinto che la tecnica diventi tecnicismo e si imponga, diciamo, in astratto senza che vi siano alla base delle scelte politiche. Io anche per questo approccio che in qualche modo consolida una collaborazione di lungo tempo che andrà avanti ringrazio particolarmente il professor Chiaia di essere qui con noi e gli do la parola. Grazie.